Dottor Maranella, oggi qui ad Assergi si è discusso sul futuro delle aree protette a 20 anni dalla legge quadro. In questo contesto qual è il futuro del Parco Nazionale del Gran Sasso? Credo proprio perché abbiamo invitato tutti i parchi, questa mattina tutti i colleghi, i direttori e i presidenti e abbiamo avuto la fortuna nella presenza del direttore generale del Ministero è che insieme vogliamo costruire un progetto innovativo ma anche dare significato di quello che hanno rappresentato i parchi in questi 20 anni. Quindi calcolarne il valore non solo simbolico e romantico ma anche economico. Come è cambiato il rapporto tra il parco e le comunità locali dal suo insediamento? Beh, abbiamo fatto molte cose, intanto mi fa piacere che ad Assergi è ricominciato un dialogo e ci sono dei progetti che condividiamo sia con l'amministrazione separata che con il Comune di Teramo e quindi io presumo, avendo qualche fondo da destinare anche al miglioramento della sede che possa costituire un dialogo fecondo tra di noi e che possa dare più lavoro ai giovani del territorio circostante. Per quanto riguarda la conflittualità, tutto dipende non tanto dalle risorse economiche che hanno la loro importanza quanto da una concezione nuova e moderna del valore culturale dell'ambientalismo italiano. Grazie.